Ciao a tutti, ciao! Ciao! Siamo a Milano, nella città della moda. Ultima sfilata Iris Collection Milano, 18 dicembre, 8.30, presso Hollywood di Milano. Vi aspettiamo di dicembre, presso Hollywood di Milano. Così come vi abbiamo sempre abituato, per le 8.30 vi aspettiamo alla ultima sfilata di quest'anno. Per voi, lezioni di stile, come avete capito, siamo nelle gallerie Vittorio Emanuele a Milano. Ci prepariamo per Natale, e per questo al 18... Ciao a tutti, siamo in diretta su Iris Press di Fuirina.